Scontro frontale tra due vetture avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la superstrada Fano Grosseto all'altezza di Fossombrone. Un salto di corsia ha provocato il violento impatto. Una 156 che marciava in direzione Gubbio si è ritrovata sulla corsia opposta andando a scontrarsi con una Fiat Punto. Due le persone ferite ma le loro condizioni risultano non gravi. È stata fatta atterrare anche l'eleambulanza che ha portato all'ospedale Torrette un solo ferito. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi. Si è fermata una lunga fila di auto. L'ANAS ha deviato il traffico verso il centro di Fossombrone per aggirare l'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale.